Volevo chiedere se per caso il Governo aveva trovato una mediazione per quanto riguarda gli F35, perché c'erano delle idee di emozioni diverse tra le forze di maggioranza che sostengono il Governo. Quello che posso dire ovviamente è un dibattito, questo sicuramente all'attenzione del Governo. Anche di recente, nelle ultime ore, il Ministro della Difesa però ha in ogni caso chiarito che l'acquisto degli F35 è un acquisto che non è aggiuntivo rispetto al parco aerei della Difesa e anzi il numero degli F35 va a rimpiazzare un numero di gran lunga più elevato di velivoli obsoleti e destinati comunque a non essere più utilizzati.